L'ennesima truffa è andata in scena ieri mattina in un'abitazione di Annone, vittima a una donna di 64 anni, derubata da un finto tecnico dell'acqua. Sarebbe anche stata stordita con lo spray particolare su cui i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza. L'episodio nella frazione Don Zeno, al confine con Oggiono. Il marito era appena uscito per bere il caffè, la pensionata era solo in casa quando un uomo le ha suonato al campanello. Ha detto di lavorare per l'acquedotto ed è riuscito a intrufolarsi. Non è chiaro se abbia agito da solo o con un complice. La vittima avrebbe raccontato che una volta all'interno il finto tecnico le ha spruzzato qualcosa in volto, stordendola. Poi la razzia e la fuga con un bottino di qualche centinaio di euro fra contanti e monili in oro. Episodio gravissimo, sottolinea il sindaco Patrizio Sidoti. Ribadisco ai cittadini di non aprire a nessuno la porta di casa e di segnalare sempre alle forze dell'ordine. Sul fronte della sicurezza come amministrazione abbiamo investito 100.000 euro per sostituire e rimettere a nuovo le telecamere. Ce ne sono 43 in paese, tutte perfettamente funzionanti. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.